C'è una specie di piattaforma con una barchetta che non capisco cos'è. Eh? La cosa più bella che hai visto, la panchina, no? Ha il castello, la panchina. C'è una specie di piattaforma con una barchetta che non ha provato sui. La panchina, inizia, è un po' di più. No. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti